Strano, ciò che in Europa e in gran parte d'Italia funziona benissimo, qui da noi, in Abruzzo, incontra una barriera tanto inspiegabile quanto insormontabile. L'Ignavia, quella attitudine al nulla che fa sì che certi scempi si compiano senza colpo ferire. Uno di questi è il depauperamento della Biblioteca di Giampaolo a Pescara, biblioteca regionale con orari che manco in un borgo arroccato sui monti. Rimasta con due bibliotecari e meno di tre giorni di apertura settimanale, la di Giampaolo poteva solo sperare nel progetto La Biblioteca è di tutti, ammesso a finanziamento governativo nel 2018, nella bando delle periferie, ma che oggi invece, secondo il Partito Democratico, è ancora al palo. A distanza di un anno dalla firma della Convenzione, questo progetto non è partito, un progetto che prevede 82 mila euro da parte del Governo e 21 mila euro, 3 mila euro all'anno, a partire dal quarto fino al decimo anno, da parte della Regione Abruzzo. Nella Biblioteca di Giampaolo, che nel 2011 si è trasferita sulla Triburtina, c'erano 10 dipendenti, 10 dipendenti con delle professionalità specifiche per le biblioteche, archivisti, bibliotecari, eccetera. Oggi ne sono due, è una biblioteca che funziona due giorni e mezzo a settimana, il lunedì, il mercoledì mattina e pomeriggio, il martedì soltanto la mattina. La Regione rispose, rispetto al fatto che c'erano stati pensionamenti per la di Giampaolo, che il personale mancante sarebbe stato sostituito con personale della Regione stesso. Tutto questo non è avvenuto, non solo a prescindere dal fatto che un bibliotecario non è esattamente una persona sostituibile con un'altra professionalità. Questo progetto prevedeva delle figure specifiche, servono degli archivisti, servono dei bibliotecari, non qualsiasi personale della Regione Abruzzo può essere messo in una biblioteca per fare bene il suo lavoro. Biblioteca regionale, ma il Comune cosa potrebbe fare? Il Comune potrebbe fare tanto, innanzitutto potrebbe sicuramente istituire un tavolo, una tavola rotonda, un incontro insomma con i dipendenti della Biblioteca regionale, con la stessa Regione, con l'assessore alla cultura della Regione, sindaco, ovviamente per provare a capire qual è lo stato dell'arte. Tant'è che il sottoscritto ha dovuto la settimana scorsa procedere con una richiesta di accesso agli atti che ad oggi, dopo una settimana, non ancora sono stati forniti. Quindi aspettiamo una risposta innanzitutto all'accesso agli atti per capire lo stato dell'arte. E poi vogliamo chiedere, già in questa conferenza stampa l'abbiamo chiesto, un impegno e un passo concreto da parte del sindaco affinché si possa capire come rendere la Biblioteca di Giampaldo una biblioteca più europea, mettiamola così. So che è un parolone oggi e sembra un'utopia perché la Biblioteca di Giampaldo oggi vive un momento difficilissimo.